Un caro saluto da Mario Giulianci e gli amici di Vivere Pesaro. Che tempo farà in questa settimana? Due grandi novità. Innanzitutto la perturbazione giunta domenica sul nord Italia e che già lunedì sta portando temporale su molte aree del centro-nord insisterà su Pesaro e provincia fino a giovedì di questa settimana. Ossia tutti i pomeriggi c'è il rischio di temporale soprattutto nelle zone interne. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino alle coste. Ma poi venerdì migliora in maniera improvvisa perché arriva sull'Italia l'avanguardia dell'anticicolone nord africano il quale intorno a domenica 27 avrà occupato quasi tutta l'Italia. Quindi temperature in brusco rialzo, sì bel tempo perché l'anticicolone porterà bel tempo ma ci sarà da soffrire a partire da domenica e soprattutto lunedì, martedì della prossima settimana perché potremo sfiorare temperature prossime a 30 gradi nelle zone interne del Pesarese e intorno a 28 gradi lungo le coste. Sarà la prima vera ondata di caldo di questo quasi inizio estate. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci. Grazie.